Non dobbiamo avere paura di lasciare gli altri vecchi, di rinnovare cioè che l'abitudine e quelle strutture che nella vita della Chiesa, e dunque anche nella vita consacrata, riconosciamo come non più rispondenti a quanto Dio ci chiede oggi per far avanzare il suo regno nel mondo. Siamo consacrati per servire il Signore e servire agli altri con la parola del Signore, no? Ma dite ai nuovi membri, per favore, dite che pregare non è perdere tempo. Adorare Dio non è perdere tempo. Lodare Dio non è perdere tempo. Se noi consacrati non ci fermiamo ogni giorno davanti Dio, nella gratuità della preghiera, il vino sarà accetto. Con queste parole Papa Francesco ha salutato i partecipanti alla plenaria della Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica sul tema Vino Nuovo in Utre i Nuovi. Il Pontefice ha riconosciuto le aree di debolezza che è possibile riscontrare oggi nella vita consacrata, la resistenza di alcuni settori al cambiamento, la diminuita forza di attrazione, il numero non irrilevante di abbandoni, la fragilità di certi itinerari formativi, ma Parimenti ha invitato tutti a rimanere in ascolto dei segnali dello Spirito che apre nuovi orizzonti e spinge su nuovi sentieri. Pensando a quanta gente ancora attende l'annuncio del Vangelo, Papa Bergoglio ha infine offerto alcuni criteri orientativi per la missione di quanti sono chiamati a dedicare la propria vita alla sequela di Cristo. L'originalità evangelica delle scelte, la fedeltà carismatica, il primato del servizio, l'attenzione ai più piccoli e fragili, il rispetto della dignità di ogni persona.